Forse sbaglio ma dovrebbe essere il decimo consecutivo in eccellenza? Mi sembra di sì, mi sembra di sì e confermo, il decimo campionato consecutivo, quindi dopo mi sa il Capistrello e un'altra squadra che non ricordo, noi siamo una squadra con più presenza nel campionato eccellenza. Questo è già un piccolo vanto, obiettivo, l'abbiamo detto in serie di presentazione? L'obiettivo resta quello di ottenere la permanenza nella categoria, possibilmente l'anno scorso l'abbiamo raggiunto la penultima giornata, ci auguriamo di raggiungere un paio di domeniche prima per poter dopo affrontare le successive gare con più serenità e facendo esordire perché quest'anno abbiamo un bel gruppo di hunter, sono ragazzi bravi, volenterosi e che hanno voglia di affermarsi. Non più il viola? Sì, allora questo è anche motivo d'orgoglio perché questa decisione dei colori e del logo che ci riporta un po' alla storia, alle tradizioni perché noi siamo un po' tradizionalisti e ci piace e quindi se questi erano i colori poi le vicende societarie, le fusioni, i nuovi dirigenti, hanno portato a vari cambiamenti. Però fondamentalmente il San Buceto aveva questi colori dal 1958 e abbiamo deciso quindi di ripartire un po' da lì. Stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanto, quindi ci stiamo preparando, ecco tra tre giorni inizia il campionato, quindi auguro a tutte le società, a tutti i presidenti, a tutti i miei colleghi, a tutti i calciatori un immenso in bocca al lupo per questa stagione nuova. Che squadra è nata? Giovani soprattutto? E qualche anzianotto amico magari che dà una mano? Sì, una squadra giovane, una squadra molto brillante che cercherà sicuramente di raggiungere l'obiettivo. E' chiaro che nell'ambito di squadra poi qualche pedina un po' più esperta occorre. Stiamo comunque, la situazione acquisti rosa ancora non termina, arriverà qualcun altro, però ecco devo dire che sono contento per i ragazzi come lavorano e soprattutto lo spirito con cui si sono messi sotto.